Buongiorno! Buongiorno con le stelle! Rubrica astrologica a cura di Monica Marillis Buongiorno da Monica Marillis e da questa rubrica astrologica Buongiorno con le stelle oggi è sabato 23 ottobre. Oggi ci sono due eventi interessanti dal punto di vista dei movimenti degli astri e il primo è che il sole entra nel segno dello scorpione e quindi buon compleanno a tutti gli scorpioni. Entra esattamente alle 6 e 51 quindi chi è nato prima di quell'ora appartiene ancora al segno della bilancia, chi è nato dopo le 6 e 51 ora ovviamente estiva italiana appartiene al segno dello scorpione. Inoltre la luna entra nel segno dei gemelli. Gemelli e scorpione sono i segni più intelligenti dello zodiaco perché vedono la presenza di mercurio, mercurio il pianeta dell'intelletto, dell'umorismo, della percezione, della velocità e mercurio è domiciliato nei gemelli ed è esaltato nel segno dello scorpione. Quindi accende l'intelligenza in questo segno che ha una nomea piuttosto particolare lo scorpione quando una persona dice io sono dello scorpione aiuto perché hanno fama di essere un po' crudeli, un po' morbosi, ossessionati dal sesso, ovviamente non è sempre così ma è un segno che è sicuramente collegato alla morte e alla rigenerazione a livello simbolico e questo viene anche esemplificato dall'immagine del seme che è stato appunto piantato, seminato nella terra e nel buio della terra comincia a germinare, comincia a portare una nuova vita. Ecco dunque spiegato il motivo per cui lo scorpione ama occultare, ama nascondere, non ama farsi vedere per quello che è, ma non c'è solo questo come motivo, cioè il simbolismo del seme sottoterra quindi nel buio che ancora non si sa ma porta il germe della nuova vita e perché i pianeti che governano lo scorpione sono anche plutone e marte, sono quelli che hanno domicilio nello scorpione e plutone è sempre quello che indossa la maschera, è il signore dell'ade, degli inferi appunto sempre collegato al sottosuolo, alla forza primigenia ma anche al polimorfismo, al prendere sempre, assumere sempre delle sembianze che non sono quelle vere, quindi la maschera plutonica che ama nascondere quello che c'è veramente dietro la facciata e marte, marte porta l'aggressività, marte porta l'assertività però nello scorpione non è come per esempio nell'ariete che manifesta platealmente la propria aggressività, lo scorpione anche qui la nasconde, manipola le cose per via di plutone ma lo fa con intelligenza, l'intelligenza mercuriale. Gli scorpioni danno il meglio di sé sotto pressione, quando tutto sembra essere finito, rovinato, ebbene loro danno il meglio di sé, veramente riescono a risorgere dalle ceneri, hanno anzi bisogno di dramma nella loro vita, se le cose sono troppo lisce, troppo facili, troppo semplici, si annoiano e quindi hanno bisogno di movimentare la situazione. I gemelli, con la luna in gemelli, quindi abbiamo delle energie abbastanza in sintonia, anche se scorpione e gemelli non hanno un aspetto particolare che li lega e quindi sarà una giornata e un weekend anzi all'insegna dell'intelligenza, della battuta, della battutina anche un po' velenosa, dell'ironia, anche del sarcasmo. Sicuramente saranno queste le energie messe in moto da una configurazione del genere. Ma viste le tensioni che si sono accumulate anche a livello planetario, astrologico, vi ho parlato di questa quadratura tra Marte e Plutone che è un po' una specie di blocco tra forze maschili e anche abbastanza deflagranti. Quindi questa leggerezza della luna in gemelli ci vuole. Il sole in scorpione crea magari più dramma di quello che sarebbe necessario, però la luna in gemelli ha la capacità di sciogliere le tensioni per l'appunto con una battuta, con l'intelligenza, visto che tra l'altro la luna formerà anche un trigono, cioè un bel aspetto con Saturno, Saturno razionalità e quindi vedremo emotività, emozioni e ragione unirsi, quasi ad allearsi, a collaborare. Questo tipo d'aspetto tra l'altro favorisce acquisti lungimiranti che debbano durare nel tempo, quindi la giornata di sabato di oggi sarà assolutamente adatta se dovete fare degli acquisti abbastanza impegnativi. Invece nella giornata di domenica la luna formerà un bel aspetto con Giove e questo è proprio quanto meglio ci vuole per spendere veramente un momento di tranquillità, di serenità, di apertura, di gioia, quindi assolutamente con amici, con parenti, in modo molto leggero e molto caloroso anche. La luna in gemelli, segno d'aria, porta ovviamente buone energie, favorisce, l'espressione dell'intelligenza ma anche la comunicazione, il vedere appunto persone, come si dice vedo gente, faccio cose, vedo gente, bene, sì questo è proprio il weekend per fare questo, per mettersi in movimento, per creare connessioni, per parlare, comunicare e scambiare le proprie opinioni. Quindi segni d'aria, gemelli, bilancia e acquario vedranno rafforzate le loro caratteristiche innate ma anche ariete e leone avranno una bella ventata d'energia che aiuta soprattutto i leoni che sono un po' affaticati dalla situazione astrale ovvero l'opposizione di Saturno e Giove al loro segno. Ecco il fatto che il sole sia entrato in scorpione non fa gioire i leoni perché il sole ha ovviamente un passo molto veloce per cui la sua influenza quando si tratta di un aspetto un po' pesante o dissonante dura qualche giorno però il sole rappresenta la nostra vitalità, il nostro centro e quindi anche il sole potrebbe aggravare un pochino la situazione dei leoni nei prossimi 30 giorni ovviamente per pochi giorni alla volta a seconda di quando si è nati mentre la luna è in grado di alleggerire la situazione nei prossimi due giorni. Il sole in scorpione è un toccasana anche per gli altri segni d'acqua oltre allo scorpione rappresentano la rigenerazione delle proprie energie, la rigenerazione annuale per gli scorpioni ma anche per i cancro e i pesci è una bella botta d'energia come si dice e anche capricorni e capricorno e vergine hanno un buon impatto con questo sole con queste energie solari quindi si sentono rinvigoriti, motivati eccetera. Chi invece appunto riceve un po' male queste energie sono gli acquari che però d'altro canto hanno altri alleati cioè Saturno e Giove e come dicevo i leoni e anche i tori che però hanno anche urano nel loro segno e quindi hanno uno spirito dinamico che li sta spingendo a portare avanti i loro obiettivi. Per quanto riguarda invece la luna in gemelli, salto un po' dal sole alla luna sono questi oggi i pianeti, non sono pianeti, sono luminari, il sole è la nostra stella e la luna è il nostro satellite però insomma in astrologia poi vengono spesso definiti pianeti insieme agli altri perché fanno parte del nostro sistema solare ma in realtà sono i luminari. Quindi la luna in gemelli abbiamo già visto quali sono i segni che hanno piacere di avere questo tipo di energia attraversare la loro vita mentre chi reagisce un po' male quindi emotivamente si sente un po' disturbato sono i sagittari, i vergini e i pesci che però abbiamo visto prima hanno d'altro canto le energie solari a loro favore quindi è un po' un equilibrio che si crea, è un gioco di equilibri come spesso è l'astrologia. Scorpione e gemelli non hanno solo in comune Mercurio hanno anche in comune Plutone infatti Plutone è esaltato nel segno dei gemelli mentre Mercurio è esaltato nel segno dello scorpione e appunto Mercurio è signore dei gemelli e Plutone è signore dello scorpione. C'è quindi una grande risonanza tra questi due segni come dicevo tra i più intelligenti dello zodiaco ma anche quelli che più amano l'ironia o il sarcasmo. L'ironia è più dei gemelli e il sarcasmo è più dello scorpione e anche la trasformazione, il mascheramento che però nei gemelli diventa più finzione teatrale, finzione scenica, gioco, scherzo, voglia di mascherarsi per giocare mentre invece come dicevo prima nello scorpione è più più simile al dramma. Lo scorpione che ama nascondere di solito parla poco mentre invece il gemelli parla molto e parla poco per celare qualcosa lo scorpione. Ci sono dettagli della sua vita che a volte nessuno conoscerà mai perché non li rivelerà mai e quindi la menzogna che per il gemelli è più che altro un gioco, un prendere in giro, uno scherzare per lo scorpione è un'arte, è un piacere creativo quasi fine a se stesso più che utilitario. Lo scorpione è spesso definito il segno più legato al sesso dello zodiaco, in realtà è sì sensuale ma come il toro, anche il toro è molto sensuale. Per lo scorpione il sesso è complicato dalla cerebralità mercuriale quindi anche quello diventa spesso un po' complicato, un po' complesso, non lo vive serenamente ma deve sempre viverlo in modo drammatico mentre invece per il toro è un atto naturale come mangiare insomma non c'è niente di complicato nella sessualità. E a volte per gli scorpioni anche il sesso è tutta una questione di potere, vi già spiegavo altre volte che il potere è una caratteristica di Plutone, questo pianeta che appunto che governa lo scorpione e quindi anche nella sessualità a volte ci saranno questi giochi di potere o giochi di potere nella coppia che quindi non sarà vissuta in modo sereno, con abbandono. Forse a creare questo mito sullo scorpione, a satanato è anche il fatto che a livello anatomico la corrispondenza del segno è a livello anale e degli olgari sessuali ma in realtà soprattutto dei testicoli, quindi testicoli e zona anale mentre invece per esempio per il toro è la bocca quindi c'è un tipo di sensualità orale e invece nello scorpione è più di tipo anale e quindi anche il fatto che la corrispondenza anatomica sia quella sì perché ogni segno ha una corrispondenza anatomica quindi abbiamo nello zodiaco riflesso non solo le stagioni, i caratteri, gli umori, i temperamenti ma anche l'intero corpo umano con tutte le attribuzioni anatomiche per cui anche a livello anatomico un segno avrà una maggiore debolezza di salute collegata alla zona anatomica corrispondente, per esempio per i sagittari possono essere le anche, le cosce, spesso soffrono di sciatica e appunto gli scorpioni spesso potrebbero avere problematiche di infezioni sessuali, ragadi, problematiche, infezioni collegate alla zona anatomica corrispondente al segno. E dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monicaamarillis.com